Grazie al progetto Superirri, tradizione e innovazione si incontrano per la tutela delle colture tipiche del prato stabile e del riso. Le soluzioni testate prevedono l'utilizzo di paratoie 4.0 per la gestione automatizzata dell'irrigazione di superficie risparmiando acqua, energia e manodopera. L'analisi della sostenibilità ambientale ha messo in luce come il prato stabile risulti avere un impatto ambientale minore rispetto alle colture annuali grazie ad un minore impiego di input nel ciclo culturale. Inoltre la copertura del terreno per più anni permette di incorporare CO2 nel suolo. Il metano è il principale gas serra prodotto nella risaia dai processi di anaerobiosi che avvengono nelle condizioni di sommersione. La paratoia automatizzata permette di ottimizzare i cicli di sommersione e asciutta, riducendo le emissioni di metano e aumentando in generale la sostenibilità ambientale di questi sistemi.